Studio Tour, seconda puntata, il format in cui prendiamo un creator, uno youtuber, un podcaster e andiamo a farci un giro nel suo studio, lo facciamo verticale, ci prendiamo tempo, analizziamo le sue scelte, le cose che ha acquistato, le cose di cui è contento, le cose di cui è scontento. Insomma, ci divertiamo un po' e questa volta vi mostro in anteprima un piccolo anticipo spoiler dell'ospite che vedremo fra poco, abbiamo uno youtuber, podcaster, blogger, chi più ne ha più ne metta e ci andiamo a guardare il suo studio e vediamo se riusciamo ad arrivare fino a sera per fare un tramonto sul tempo. Ci andiamo a guardare il suo studio concentrandoci soprattutto sulla parte outdoor, quindi su cosa usa per fare queste bellissime riprese in outdoor. Questo perché ricollegandoci ai punti iniziali l'elemento a fuoco messo dalla fotocamera è soltanto uno e poi in base alla profondità di campo ci sarà una graduale perdita di nitidezza. Dai dai che vi sta venendo l'acquolina in bocca. Andiamo a parlare di histogram, histogram in fotografia. Ho fatto la foto. E dai che vi ho già fatto lo spoiler di qual è l'ospite di questo studio tour. Vi voglio solo segnalare per completezza e anche far vedere il profilo Unsplash dove potete scaricare e utilizzare gratuitamente le foto che ha molto gentilmente messo a disposizione. Ne approfitto per farvi vedere quanto sono belle queste foto. Ci tengo solo a precisare, ma questo non vale per l'ospite di questo studio tour vale per tutti, che quando una foto è a disposizione su internet, nella maggior parte dei casi, e questo è uno di quelli, quella foto va attribuita all'autore, per cui dove utilizzate la foto linkate sempre l'autore della foto stessa. E guardate qui, guardate qui e ditemi se non iniziate a friggere, a vedere l'ora di conoscere questo ospite. E allora prima di buttarci sullo studio tour, però vi volevo ricordare un paio di cose super rapide. La prima, trovate il form per candidarvi allo studio tour, lo trovate qui sotto nella descrizione del video, quindi se avete un bello studio o anche un brutto studio, insomma magari lo utilizzate bene però, bene, candidatevi e se ne varrà la pena presenteremo il vostro studio anche agli altri spettatori, alle spettatrici. L'altra cosa che ci tengo a ricordarvi è che trovate anche i marcatori di capitolo qui sotto, quindi magari vi interessa soltanto una parte dello studio tour, vi interessa solo la parte audio, solo quella video, soltanto il confessionale con i pentimenti? Bene, avete la possibilità di schippare alla parte che vi interessa, anche perché, lo ribadiamo ancora una volta, insomma andiamo un po' verticali, ci prendiamo il tempo che ci serve, mi piace proprio esplorare le scelte delle altre persone. Direi che vi ho detto tutto, veramente non si poteva andare più in profondità e allora ve l'ho già spoilerato in tutte le salse, l'avrete anche già letto nel titolo, insomma non è che sia questa grande sorpresa, però diamo il benvenuto ad Alessio Furlan. Ciao Alessio! Ciao, 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 ciao! Grazie per avermi invitato. Bene arrivato Alessio e grazie, grazie per essere qui. Alessio Furlan, il tuo progetto si chiama Tecnica Fotografica, ti si trova bene o male con tutti e due i nomi. Ultimamente vedo più spesso Alessio Furlan, quindi se lo dovete cercare su Google cercatelo come Alessio Furlan e troverete tutti i suoi progetti. YouTube, podcast, ha un blog molto seguito che parla di fotografia. Ecco, Alessio nasce come fotografo e docente, mi viene da dire, di fotografia, tecniche fotografiche, software fotografici e oggi insomma ha una produzione di contenuti abbastanza variegate, quindi sono super curioso di conoscere il tuo studio, sottolineando che oggi ci concentriamo sulla parte outdoor. Vedremo qualcosina anche delle cose che usi dentro lo studio, però mi piace l'idea, visto che fai dei video che sono bellissimi fuori casa e sono curiosissimo di capire come li fai, per me oggi il tuo studio è quello che usi fuori casa. Lasciamo, marcatore di capitolo anche in questo caso, una piccola parentesi per lo studio invece che utilizzi all'interno. E allora se tu sei pronto Alessio io ti direi che partiamo. Sì sì, infatti io ho uno di quei studi detti brutti appunto, lo vedremo, lo vedremo. Lo vedremo e partiamo proprio dalla panoramica, cioè andiamo a vedere, non la intro, maledetto marcatore di capitolo, perché mi fai questo? Ma bensì la panoramica. Quindi andiamo a vedere super velocemente, senza entrare nel dettaglio, quali sono gli elementi che ci mostrerai e quali sono le cose che utilizzi. Facci un po' capire. Esatto, allora io in esterna ho utilizzato tantissimi mezzi per fare dei video in esterna. Consideriamo che lavoro da solo, sì ho un amico, socio, collaboratore che mi segue, però non è il videomaker che mi tiene la videocamera che mi riprende. Quindi devo, ho cercato delle soluzioni, ne ho provate tante, per potermi riprendere da solo, quindi fare le cose da solo. E quindi ti farò vedere le attrezzature che utilizzo per le riprese in esterna. E dopo direi che possiamo vedere anche l'aspetto audio e, perché l'audio è molto importante in esterna, è molto difficile da gestire. E poi magari possiamo vedere anche cosa utilizzo come software, ma anche qual è lo zaino che utilizzo per buttare dentro tutto quanto. Ah, cavoli, questo mi interessa molto. E ti dirò, e ti dirò, caro Alessio, visto che il prossimo capitolo in teoria sarebbe proprio stato quello relativo alla stanza, in questo caso potremmo pensare che la tua stanza forse è lo zaino. Eh sì, eh sì, perché lo studio in sé è questo, e tu lo sai già bene, è una cameretta, è una cameretta che ho dovuto recuperare perché il mio studio reale ha avuto un imprevisto, un'infiltrazione d'acqua, e quindi il studio in sé non è una cosa interessante forse. Il mio studio è, la mia stanza è lo zaino dove vado ad inserire tutta l'attrezzatura perché mi sto concentrando sul fare dei video, non seduto qui sulla scrivania, ma dei video dove esco e faccio le riprese in esterna. Senti, ma facciamo una cosa allora Alessio, allontanami un po' la webcam, mi fai vedere una panoramica super veloce della tua scrivania, di come è messa, e poi anche se ti va parliamo un pochino dello zaino, che è la tua stanza di lavoro. Allora, prendo in mano la cam, perché la stanza è molto molto piccola, però può dare un'idea, eccola qui, da dove state vedendo voi è l'ingresso praticamente, ho la porta dietro qui, entro, la stanzina è veramente veramente piccola, e dietro ho tutto l'impianto elettrico, un gruppo di continuità, eccetera, e questa qui è la mia scrivania, dove praticamente ho l'impianto audio, roadcaster, qui ho un po' di attrezzatura che vi farò vedere, il macchinone, che questo qui è quello che mi permette di fare tutto, è il pezzo grosso, e qui dopo dietro ho una serie di accessori, attrezzatura, gadget, a poca roba, e qui ci sono i due zaini, che dopo te li porto qui sotto la fonte di luce per vedere bene cosa può. Ma sai che io forse partirei proprio da loro, per te va bene? Sì, 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 guarda. Mi fai vedere come li usi? È una roba tra l'altro che mi piace molto perché… Ho visto che tu hai fatto diversi video sullo zaino, eh? Sì, ma poi è proprio la tua stanza proprio, e quindi come uno è orgoglioso di far vedere il suo studio, chi gira molto fa delle cose in esterna, dove tiene lo zaino, ha piacere far vedere lo zaino, e io ne ho due principalmente, ne cambio ogni tanto, però sono rimasto con due che mi hanno molto soddisfatto, e diciamo parto con questo, che adesso si fa un po' di pubblicità indubbiamente, perché è quello della GoPro, e purtroppo questo qui non lo fanno più, fanno una versione che è più semplificata, ed è un peccato, e questo qui, il bello di questo, diciamo, interrompermi quando vuoi, tu… Vai, vai, che mi interessa. È, che lo vedi, è estremamente compatto, stretto, però si allarga quando tu gli butti dentro roba, si allarga, e la cosa che mi piace tantissimo di questo, a parte la forma che ha la forma, che è largo in alto e poi stringe verso il basso, quindi sulla schiena sta veramente, veramente bene, e io adoro questo, perché questa versione che non fanno più, purtroppo, la creavano con degli agganci qua, dove in sostanza qui si viene a attaccare, già in dotazione, l'attrezzo dove ci attacchi le cam. Ok. Quindi ce l'hai qui sul petto, e io quando faccio le riprese, da un po' di tempo, utilizzo la doppia cam, una attaccata qui sul petto, che è iper grandangolare, quindi fa un punto di vista che è quello mio, tanti se la mettono sulla testa, io la metto qui perché è più comoda. Ma anche perché mi viene, forse ti fa anche venire meno il mal di mare, perché la testa la muovi molto, invece sul petto è un po' più solida, no? Sì, perché la testa effettivamente tutti i giri, guardi, tutto, per carità è bello perché vedi proprio cosa sta facendo il fotografo, ma essendo una cam, come si dice, che dà il contesto, perché ce l'ho qui, riprende il contesto, poi io mi muovo magari con un'altra cam per fare le riprese, quindi dopo il montaggio faccio lo switch tra quello che sto riprendendo davanti e la cam che ho qui, sincronizzando l'audio, quindi vengono tutte perfette. E questo qui diciamo che è il primo zaino, quello che se devo fare un'uscita di un paio d'ore, esco con questo, perché è impermeabile, estremamente leggero, comodo e perché mi dà questa opportunità. Lì forse non hai la possibilità, sto ipotizzando, di dividere molto gli scomparti, di proteggere magari delle cam molto costose. Vediamo se ti ho perso. Si è frezzato tutto, mi vedi? Ecco qua, ti ho trovato, ti ho trovato, ti dicevo degli scomparti e della protezione delle cam. Sì, ora questo zaino non ha scomparti, perché dobbiamo anche pensare che è nato per questo utilizzo, per le micro cam, quindi ha un sacco di spazio di vani, di vani, di vani, di per gli accessori. Cioè puoi mettere mille GoPro, ma non una mirrorless. Esatto, non puoi. Dentro c'è la sacca vera e propria dove butti dentro dei maglioni, degli accessori, ma tutto alla rifusa diciamo. o utilizzi tu, io utilizzo dei micro scomparti, delle sacche, eccetera, che allora metto lì, ecco qui, questo qui è un esempio, ho le confezioni che ho buttato dentro e queste qui sono divise e hanno tutta la cosa dentro. Dentro qui ci posso mettere il drone DJI Mavic Mini con le sue batterie e col suo radiocomando, per dirti. Sì, chiaro. Quindi sta bello comodo e lo butto dentro e utilizzo questo metodo. Qui ho un altro, te lo farò vedere, che sono dei scomparti. Niente, qua non c'è altro da dire. Ok, quello è quello diciamo di battaglia di tutti i giorni, certo. Se ne trovate uno, perché con la storia che l'hanno tolto dal mercato da una settimana circa, ci sono ancora negozi MediaWall che ne hanno disponibili gli ultimi pezzi e il bello è che li svendono, tipo li porti a casa per 60 euro. E magari un giorno verranno anche un sacco di soldi. 120 euro costava, li svendono proprio ed è il miglior zaino. che avevano in catalogo e l'hanno dismesso. Interessante. E dopo si va sul pezzo grosso. Questo qui è un zaino da 200 e passa euro. Marca Peak Design. Sono praticamente fatti a mano questi qui. E questo qui è quello che ti dà tutti gli scomparti possibili. Questo qui è la versione zip, ovvero ha tutte le cerniere. E questo qui è piano. Eccolo là. Che è tutto personalizzabile. È totalmente impermeabile. Quindi tutte le zip sono termosaldate. Si apre dappertutto. Da ogni... Un sacco di zip. Carina questa cosa che si può aprire anche di lato. Sì, sì. Si apre di lato, davanti. Ah, quattro zip. Cioè, la zip è una unica. Però ha quattro agganci. Quindi da qualsiasi punto puoi aprirlo. E ha le calamite, bella questa qui, dei lati qui ha le calamite. Quindi rimane appiccicato, attaccato ai bordi. E questo qui è quello, il cavallo di battaglia, quello che utilizzo per... Difatti lo vedi è anche un po' sporco, un po' rovinato. Un po' usurato, certo. Questo qui ho fatto, ad esempio, abbiamo fatto il giro sulle tre cime di Lavaredo e ci siamo beccati un bel tre, quattro ore di pioggia e ce l'avevo dietro. Mi sono fatto con tutta l'attrezzatura fotografica dentro, da cinque chilometri, da un rifugio al parcheggio, sotto la pioggia. Un po' di umidità si... Certo. Comunque l'umidità sull'aria entra un pochino, quindi dentro si sentiva l'attrezzatura leggermente... Sì, quel po' di condensa, magari, certo. Esatto, condensa, bravo. Però le attrezzature fotografiche non hanno questi problemi, cioè per un po' di condensa quelle che utilizzo io non hanno problemi. Ovvio che se ci metti un computer comincia ad essere un po' problematica. Però, niente, questo qui è il cavallo di battaglia, questo qui ci sta dentro tanta roba, questo qui puoi fare una giornata intera perché l'attrezzatura fotografica, anche qui scomparti, io ci butto dentro dei kit già pronti. Ad esempio, non è che io preparo lo zaino ogni volta, lo zaino è vuoto, ma io ho già le pochette con tutte le attrezzature, con tutti gli accessori già pronte dentro e quando devo partire, prendo, la butto dentro e so di avere tutta l'accessoristica che mi serve. E basta, dopo c'è lo spazio per un maglione, per qualche viveri, per delle borraccia d'acqua, treppiede, ti farò vedere, qui ci butto dentro, si agganza un treppiede gigantesco e te lo porti dietro senza problemi e ha tutte le imbragature che servono per avere un sostegno fatto bene, insomma. Bello, molto bella questa cosa, Alessio. E sono contento anche di essere partito dalla tua stanza, cioè dallo zaino, perché lo zaino molte volte si sottovaluta. Io ricordo che quando mi sono licenziato e ho iniziato a fare questo lavoro, una delle prime cose che ho fatto è stata proprio comprarmi lo zaino, perché mi sono detto, cavoli, io devo andare in giro con il computer in spalle, in quel caso, non con l'attrezzatura fotografica, ogni singolo giorno e voglio farlo bene per me e per la mia attrezzatura. E alla fine ho investito, io avevo investito un centinaio di euro o qualcosa del genere, avevo preso, e ce l'ho ancora, quello che uso ancora, lo zaino della ThinkPad, perché avevo un ThinkPad di Lenovo adesso, col pallino rosso, anche lo zaino, è veramente bello e anche ti dura molto di più, cioè oggi è come se l'avessi comprato ieri, effettivamente. Sì, questi, fa conto che questo qui costa, l'ho pagato 250 euro, è garantito a vita questo qui. Ecco, vedi, è fantastico, fantastico. Ricordami la marca. Non è una garanzia a vita che qualcuno dice, ok, no, no, questo qui, domani, queste qui si sono sgualcite un pochino, se vuoi, glielo dici e loro te ne danno un altro. Fantastico. Se sono delle parti intercambiabili, ti mandano la parte intercambiabile, però se sono delle parti saldate, cucite, ti danno lo zaino nuovo. E ricordami la marca? Pick Design, beh, chi è nell'ambito fotografico lo conosce molto bene. E senti, secondo me se ne approfittano un po' del fatto che probabilmente chi ha questi oggetti poi si affeziona anche all'oggetto un po' usurato, un po' rovinato, quindi non lo cambierebbe mai per niente al mondo. Sì, dopo sai, chi prende, adesso io li ho presi questi qua, ok, si garanzia a vita, ma io li ho presi soprattutto perché mi serviva l'oggetto con caratteristiche resistenti, eccetera. È ovvio che quando io andrò in giro, come adesso io già lo sto guardando, è un po' grattato, però quando vai sulle dolomiti, sulle rocce, eccetera, è normale. Non è che arrivi a casa e perché ha qualche grattata, le mani indietro, loro te lo cambiano perché c'è qualcuno che aveva magari consumato un po' la manica qui e l'ha cambiato, però... Eh sì, certo, certo. Io lo cambio quando mi si spacca la manica, allora gli dico, ok, si è rotto, me ne mandi un altro. Senti Alessio, buttiamoci sull'attrezzatura video, che ne dici? Eh sì. Dai, iniziamo con il pezzo forte, componenti video. Dimmi un pochino cosa usi. Allora, uno direbbe, ok, le Sony sono quelle più utilizzate, io vado un po' controcorrente, io vado ad utilizzare questi prodottini che tutti noi conosciamo. Questa qui è la GoPro Hero 8, domani mi arriva la GoPro Hero 9, l'ultima che hanno fatto. Qui ho la GoPro Max, ma dai, andiamo per punti. Questa qui è il mezzo che utilizzo per registrare. Questo lo usi per registrare te stesso e quella che ti metti addosso entrambe per fare le foto? Questa qui è quella che mi tengo, magari, adesso ho questo che è un gimbal stabilizzatore, ma non ha senso, io utilizzo un'asta, normalissima, e quella lì la uso per tenermela di fronte e riprendermi. Tanto credo che queste cam ormai abbiano una stabilizzazione pazzesca, no? Infatti, non hanno più senso, questi qui sono degli stabilizzatori gimbal, che hanno tutto il sistema motorizzato, già con questa che è l'Aero 8, questi qui venivano meno, adesso con la 9 che addirittura la stabilizzazione dell'orizzonte, mantiene sempre l'orizzonte dritto anche se giri la cam, basta, hanno finito di esistere, secondo me questi prodotti vado via solo con il prodottino con l'asta e morta là. Quindi questa la usi per te? Per riprendermi, esatto, 4K arriva fino a 4K, la Hero 9 arriva fino a 5K, va bene, ma non è che vai a utilizzare quelle risoluzioni, 2.7K utilizzo in genere, quindi ho una risoluzione un po' più alta del Full HD, per avere un po' più di dettaglio, ma non file estremamente pesanti, perché poi registrare in 4K, in 5K, significa che dopo devi avere delle scade di memoria capienti. Delle batterie che ti durano una vita e bisogna trovare il giusto compromesso. Sì, e spesso non ne vale neanche la pena, poi per un uso di YouTube, per quello che dobbiamo fare. Esattamente, esattamente. Dopo ho questa qui, che è una cam a 360, però io l'utilizzo attaccata qui al petto, attivando solo la videocamera anteriore. Quindi per questo dicevi ipergrandangolare, perché usi praticamente una 360. La storia che sono, esatto, cam 360, queste riprendono praticamente a 180 gradi. Sì. Io la tengo qui con solo una attivata. Ma l'avevo presa soprattutto perché questa qui, se andate a vedere online, come tutte le cam a 360 gradi, questa qui tu puoi anche ruotare e l'immagine rimane sempre dritta. Sì. Quindi tenendola qui sul petto mi muovo, giro, e quando tu vedi il video lo vedi sempre perfettamente dritto, sempre allineato con l'orizzonte, non vedi il movimento. Quindi è per quello che ho scelto questa soluzione. Bello, ma toglimi una curiosità. Guarda, ne ho già una che ti devo assolutamente chiedere. Allora, tu adesso hai già due camere. Poi magari ne hai anche, immagino, una terza che magari devi mostrare, una mirrorless, una DLSR, eccetera, eccetera. Una reflex, eccetera, eccetera. Mirroless, sì. Ecco. Come fai? Ogni volta che tu fai una clip te le accendi tutte, oppure alcune le lasci sempre accese, altre le spegni e come fai a sincronizzarli poi? In post-produzione è ovvio, ma lì sul momento ti fai un chuck. Che cosa fai? Allora, generalmente quando io parto ho una cam qui, l'altra ce l'ho davanti e semplicemente avvio la registrazione su una, avvio la registrazione sull'altra e parlo. Tante volte, spesso, nella maggior parte dei casi, lascio sempre accesa questa e comunque un'ora o due di autonomia ce l'ha, quindi se io devo fare un passaggio da un punto all'altro la lascio sempre accesa, tipo sono andato a Venezia lunedì, no, giovedì scorso, perché dovevo fare una recensione su un prodotto e quindi avevo questa attaccata qui e quella l'ho accesa e l'ho tenuta attaccata per tutto il giro. Nel frattempo davanti cambiavo uno strumento che stavo recensendo, poi dovevo recensirne un altro, quindi colgo l'occasione in un colpo solo, faccio due recensioni e l'ho attaccato e dopo lavoravo con l'altra, però il video di questa era sostanzialmente uno o due. Dopo non faccio chuck, nel senso io prima mi studio ovviamente le cose che devo dire e so quali cose devo dire, mi faccio una scaletta, mi faccio proprio un foglio con tutti i punti che devo trattare, anche già una storyboard dal video come sarà, quindi cosa dovrò dire. Faccio le registrazioni e dopo la sincronizzazione avviene tutto in post-produzione, ma è abbastanza semplice perché avendo due prodotti, e questa qui è una cosa che consiglio veramente a tutti, indipendentemente che utilizziate GoPro, che utilizzate Sony, le Mirrorless, le Canon, l'ideale sarebbe prendere i prodotti della stessa marca, perché quando io registro con queste due, innanzitutto ho la color che è identica, quindi colore uguale, e dopo anche i video, le clip che ti vengono fuori, è veramente molto più semplice sincronizzarle perché non hai mai errori di frame rate eccetera, sono proprio perfette al 100%, sono uguali, quindi veramente io guardo la, come si chiama, la timeline, la waveform, sì, l'onda sonora. In due secondi la metto sopra, le allineo, c'è la sincronizzazione automatica su tutti i software, però io sto prima, le prendo, le metto lì, le metto una sopra l'altra, poi in due secondi le ho sincronizzate, intanto non è che la una è un po' più lunga dell'altra eccetera. E funziona, senti, non abbiamo detto quanti frame rate registri? Io registro con una base 30, però generalmente a 60 o 120, quindi 120 per slow motion e generalmente a 60 frame a secondo, per avere la possibilità di rallentare un pochino, perché la base ce l'ho a 30, tanti utilizzano 24, ma da 24 a 25 a 30, cambia niente, PAL, NSTC, dei due formati, quando sei in esterna non cambia assolutamente nulla, perché il problema del del lampeggio, del farfallio della luce ce l'hai solo con l'illuminazione artificiale. Avrei detto che registrassi a 60, come mai? Cioè a 60 per pubblicare a 60, come mai no? Perché tecnicamente per il fatto che tenendo dei frame rate vicini al 24, 25 hai più un effetto cinematografico, la storia della mano che si muove, adesso tu qui la vedi leggermente sfoccata quando si muove. Certo. E questo è l'effetto cinematografico, se invece tu registri a 120, a 100 o a frame rate elevati, quando io muovo la mano la vedi nitidissima ed è naturale. Sì, tipo l'effetto sopopera mi pare che si chiami. Esatto, sì, penso sia quello. E non, primo quello, ma quello lì mi interessa relativamente, onestamente, perché dubito che su YouTube uno si accorga di quelle cose, ma più che altro perché i file sono più leggeri. Ah, ok, avendone tanti magari in giro. Se tu registri a 120 frame al secondo ti trovi un file molto più cicciotto perché ha molte più informazioni dentro, ovviamente più frame. Chiarissimo. E senti, ci sono altri elementi video che vuoi farci vedere? Sicuramente ti vorrò chiedere come fai le foto, cioè quelle che noi vediamo su Unsplash e che possiamo poi andare a scaricare. Le hai realizzate con una di quelle? Oppure? Con questa. Quindi action cam per le riprese e poi fotografie invece si passa a una mirrorless. Esatto, ho provato delle volte a fare alla Peter McKinnon, che qualcuno magari lo conosce, è un YouTuber canadese, fotografo, videomaker abbastanza conosciuto, che lui si riprende con questa qui, adesso non è quel modello nuovo. Io ho provato una volta a farlo. Ci vogliono anche due muscoli non indifferenti, credo. Cioè, comincia a pesare. Cioè, dai. Eh sì, eh sì. Ma poi anche la paura di romperla che avrei... Ah no, la paura onestamente no, perché poi io sono veramente uno che degli strumenti li tratta male, quindi non ho proprio... posso utilizzare questa anche per impiantare chiodi, cioè non... Vabbè, sarebbe un bel utilizzo, credo. Se c'è la necessità, credo, impiantare un chiodo, prendo il buso anche questa per impiantare. Quindi dai, spiegami però che mi interessava, intanto dimmi il modello e poi dimmi questa roba qua che hai provato a usarla così. No, questa qui è una Canon EOS R, praticamente la prima mirrorless serie che ha fatto Canon, la fotocamera più bistrattata da tutti i fotografi, i videomaker, in realtà è una veramente... Ma a te piace fare un po' andare controcorrente, eh? Diciamo che, come tutti, credo, ci facciamo molto influenzare, io per primo mi sono fatto influenzare tantissimo da quello che vedi online, da cosa fanno gli youtuber. Quindi vedi gli youtuber che utilizzano... Aspetta che il Canon che utilizza questa e dici, va bene, ora non mi servono queste, faccio direttamente con queste qua. Oppure vedi tutti che utilizzano la Sony Alpha 644 con l'obiettivo là per far vlog, tutti la utilizzano, tutti. E tutti ci facciamo influenzare e pensiamo che quello sia il mezzo buono. E lo è buono, ma bisogna, come dico sempre, trovare il mezzo che è più adatto a noi stessi. E io dopo un po' ho capito che il mezzo con il quale mi trovo bene sono queste qui. Queste qui hanno una qualità leggermente inferiore, indubbiamente da queste nelle riprese video. Però la facilità che mi danno queste di lavorare batte tutto. E quel che conta è riuscire a fare il lavoro, non farti vedere che hai una bella attrezzatura. Quindi io la vedo così. E sono molto soddisfatto di quello che ho... E quindi quando hai provato a fare come Peter McKinnon o chiunque lui sia che non conosco? Avevo queste dietro, però le avevo lasciate nello zaino. Ho fatto questa i primi dieci minuti di video, dopodiché vabbè ok, ho capito. Da qua finisce nello zaino, ti tiro fuori dopo che devo fare le foto, che sono le foto quelle delle tracime di lavaredo lì, quella bella. Eccola lì, quella in destra. Eccola lì, quella lì. L'ho fatta con questa, però tutto prima, di fare anche tutto il video, se andate a vedere sul mio canale, trovate il video dove ho fatto l'escursione, che è il primo video, eccolo lì. Foto tramonto sulle tracime di lavaredo. A parte la prima parte iniziale che ho usato questa, è stato fatto tutto con le due action cam. Vediamo se la trovo. Quindi questa è la parte iniziale, qui avevo in mano la... il bestione, infatti si vede che... Lo sforzo anche. È poco stabilizzata. Per carità si vede benissimo, sai. Però dopo... No, no. Cioè, se vai verso la fine, vedi che cammino molto più soft, ecco qui, tipo il passaggio qui. Eccolo qua. Qui stavo utilizzando le... Sì, si vede. Si vede. Tra l'altro, wow, meraviglioso, quell'arcobaleno. Sì, c'era il doppio arcobaleno. Ah, fantastico. Ho capito. Quindi hai questa Canon mirrorless per le foto e tra l'altro però, se ricordo bene, perché io ti seguo soprattutto perché sei un amico e ogni tanto per capire qualcosa di foto, ma relativamente perché non è proprio la mia passione la fotografia. Quindi ti sbircio soprattutto perché ho stima di te e insomma mi piace imparare quello che tu hai da trasmettere. E c'è stato un periodo in cui, se non sbaglio, però magari mi correggi, hai provato a fare anche le foto con la GoPro o mi ricordo male? Sì, sì, ho utilizzato la GoPro, però non hanno... vanno bene se c'è tanta bella luce. Ok. Appena arrivi in condizioni, già quelle della montagna che cominciava ad esserci delle nuvole un po' di temporale, luce un po' più bassa, li vanno in crisi. a meno che, il bello della tecnologia che avanza è, a meno che uno non vada a scegliere questo prodottino. Questo qui me l'hanno mandato, me l'hanno regalato, devi fare di youtuber cosa vuol dire. Ok. E questa qui... E in cambio, tengo nel fatto che tu sei intervistato poi nello studio tour di Ciraolo e parli della camera, quindi hanno fatto un affare. Esatto, dopo girerò il link, gli farò vedere, guardate che ho parlato di voi. Infatti. No, questa qui, chi è nel settore, l'action cam la conosce molto bene, sono concorrenti di queste, però hanno... Però aspetta, non hai detto il nome, gli stai facendo una pubblicità senza dire il nome. La barca è Insta360. Ah, ok, famoso. Questo qui è il modello One R. È l'unico che hanno, in sostanza. Questo qui, spendiamo proprio due minuti, perché può essere una cosa interessante per chi utilizza queste, perché ha dei piccoli vantaggi. Il vantaggio primo sta nel fatto che è modulare questo sistema. Quindi, quando tu lo acquisti, ti vendono il kit di base, però dopo tu, questa qui, è tutta smontabile a moduli, quindi batteria, la stacchi, qui hai il corpo, con lo schermetto qui dietro, touch, questa qui è la lente, una. Vuoi cambiare lente, c'è una lente differente, e la agganci come un Lego. Bello. Ma a livello di qualità è paragonabile alla GoPro? Poi la lente a 360 gradi, ce l'hai. Hanno il modulino con la doppia lente, la agganci come un Lego, sempre, eccola qui. C'è la camma a 360. E senti, è paragonabile alla GoPro come qualità? È paragonabile a una GoPro come qualità? Allora, se andiamo a vedere il modulino che hanno questa prima lente, dove l'ho messa? Qua. Questa prima lente e il 360 sono paragonabili a queste due. Costa un po' meno questo kit, però il loro vero vantaggio, di fatto si ricollega al fatto di aver fatto foto con l'action cam, è questa qui. Questo qui è il modulo da un pollice, ovvero ha un sensore che è da un pollice, che è quello delle, vediamo, riesce a condividere lo schermo mio? Sì. Eccolo qui, guardate, questo qui è l'esempio delle dimensioni, questo qui è la dimensione del sensore di uno smartphone o di una, o di una GoPro più o meno. Questo qui in viola, in lilla, è il sensore che è presente in questo modulo che ha fatto Insta 360. Sensore micro 430 e PSC sono quelli delle mirrorless, delle reflex. Quindi per dirti le dimensioni, si avvicina molto alle dimensioni delle mirrorless, delle reflex, insomma. Chiaro. Insomma, hanno fatto questo modulino che registra in 5K o qua è tutto quello che vuoi, ma il suo cavallo di battaglia sono le foto. Questo qui è come avere quasi una mirrorless, anzi, se non devi fare ISO elevatissimi ma scatti a 100-200 ISO, non riesci a capire la differenza tra una... Potrei aver fatto quella foto lì dell'Electricium e di Lavaredo con questa qui, senza problemi. Super. Senti, dimmi... E questo è il suo cavallo di battaglia, difatti, sta spingendo tantissimo, me l'hanno mandata, tra l'altro, fatta in collaborazione con Laika, quindi non è che sono... è scritto anche sul barilotto, Laika, cioè, non è che sono sproveduti o gli ultimi arrivati. E loro stanno spingendo tanto su questo aspetto perché appunto puoi riprenderti, fatti i video, però se devi fare le foto, questa qui, potrebbe in determinati casi anche sostituirti. Cioè... C'è un po' di differenze in effetti, eh? No, no, no. Diciamo che potrebbe avere senso se io magari sto iniziando oggi e invece di prendermi quei quattro, quelle quattro macchine che tu hai mostrato, mi prendo solo quella, diciamo che potrebbe essere quella più universale in questo caso? Eh, qua c'è una bella discussione attorno, c'è chi dice che questo Insta360 andrà a a sbaragliare tutti questo sistemino, non so se mi vedi. Sì, ti vedo un po' sfocato ma ti sento bene. Ah, infatti, sì, un attimo... È una questione di connessione, diamogli il tempo, nel frattempo puoi parlare, eh? Niente, allora, hanno... C'è chi dice che sta qua andrà a sbaragliare il mercato, secondo me, io che ce li ho entrambe, ci sono delle criticità su questo prodotto, cioè, sono dei vantaggi e delle criticità e bisogna che ognuno valuti personalmente se i vantaggi che ti dà sono maggiori dei svantaggi che ti dà questo sistema modulare, che ad esempio il sistema modulare è un po' più... dà la sensazione di un po' meno sicurezza in fatto di resistenza, eccetera. quindi questi sono gli svantaggi, la resistenza? Sembrerebbe, dopo sarebbe da provare, però questa è l'impressione. Certo. E senti, mentre aspettiamo che la connessione ci restituisca un'immagine decente, se non nel caso mettiamo un attimo in pausa e proviamo a riresettare la connessione, volevo capire se ci sono dei gadget, delle cose, degli strumenti che utilizzi sempre lato video di cui ci vuoi parlare. Per esempio, le batterie sono un problema quando lavori in auto d'oro oppure tranquillamente tu hai quelle integrate, sei a posto, devi cambiarle. Ecco che finalmente ti vedo. Ah, se hai ripreso un pochino. Esatto. Devi cambiare. Ma a me, sai cosa? A questi studio tour mi piace farli così, cioè potrei farli più patinati chiedendoti di registrare il video in locale, robe del genere, ma non voglio perché io voglio mostrare le cose per quelle che sono in questo caso. Quindi non mi interessa la patinatura, io voglio parlare e voglio anche avere i problemi di connessione. Eh, tra l'altro io abito in un posto dove la connessione di internet non è il massimo della vita. Ecco. Non pervenuta. Ma figurati, io adesso sto parlandoti con l'hotspot e che mi vergogno solo a dirlo, cioè sto facendo un'intervista con l'hotspot del telefono perché va più veloce di internet di casa, cavoli. Comunque, comunque, dicevamo qualche... Gadget e batterie. Vai. Eh, lì, io non ho mai avuto problemi onestamente con le batterie perché di tutti i prodotti di questi ne ho comprato due in più quindi ho un'autonomia di cinque ore di ripresa, voglio fare cinque ore di ripresa, cioè devo stare via più giorni, se sto via più giorni generalmente ho la possibilità di ricaricare e poi adesso i power bank te li tirano dietro quindi ho anche lì ho un power bank da 20.000 non ricordo come si dice il valore e cavoli con quello lì ricarico 30 volte questi prodotti qua cioè il problema delle batterie onestamente non lo vedo questa qui questa qui non ha una gran autonomia soprattutto perché consuma tantissimo con questo sensorone gigantesco questa macchina che consuma un sacco di energia però è anche vero che se voglio compro due batterie si ricaricano in dieci minuti mezz'ora si ricarica questa cioè non ha tanti problemi e ci sono altre cose che usi lato video non lo so io mi viene in mente per esempio l'illuminazione stando fuori come si fa a gestire una cosa che di fatto non puoi controllare guarda che figo invece puoi invece puoi questo qui ma di che cos'è di quale delle cam è? della GoPro vedi dov'è la differenza qui non hai questa opzione disponibile questo qui hanno fatto dall'anno scorso questo case che adesso qui questa GoPro ha un involucro in gomma con vetro protettivo che gli ho messo su posso toglierlo anzi lo faccio subito ci metto due secondi eccola qui sento un fischio quando parli non è che il tuo microfono si sta scaricando qualcosa del genere? no mi senti? tutto bene fischia? eh ti sento un po' fischiante solo quando parli tra l'altro altrimenti proviamo a cambiare provo a cambiare microfono cosa dici? vediamo se sento lo stesso il fischio magari è Skype eh si proviamo ora devo andare su Skype impostazioni audio e video e va così eh dobbiamo ebbè non ti sento adesso ah ho sbagliato scusa adesso mi senti? eh si non ti sento più il fischio tra l'altro no dai teniamo questo allora ho attivato ok cambiamo così al volo ho attivato il lato scuro bravo ma senti il tuo locale lo stai registrando lo stesso? si 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 perfetto ho semplicemente switchato da un microfono all'altro erano già collegati eh beh un professionista un professionista poi parliamo comunque velocemente anche di quel microfono e quello che è lì dentro ne parliamo dopo vi ricordo se volete passare alla parte audio o alla parte indoor ci sono i marcatori di capitolo allora questo qui ti dicevo è un case che fanno per la gopro lo butto dentro adesso non smonto tutto quanto e quando tu la ganci hai innanzitutto un microfono direzionale qui ah quindi puoi dirgli di ascoltare solo davanti solo dietro o in stereo e in più ha gli attacchi hot shoe ovvero puoi attaccarci degli accessori come ad esempio una luce led che è questa qui che adesso io ti illumino aggiorno adesso tu vedi poco ma è estremamente potente questa luce e dura sei ore se non ricordo no tre ore dai tre o quattro ore pegniti e puoi anche attaccarci dei microfoni esterni quindi questione audio che magari andremo ad affrontare ci puoi attaccare un microfono esterno e qui dietro ha l'attacco jack super quindi con quello a fare tu praticamente metti gli steroidi alla gopro esattamente diventa questo qui è il modulo pensato per farla diventare una vlog cam da action cam loro hanno detto ok gli diamo ai vlogger questa opzione e loro si ritrovano con un microfono che ti aumenta la qualità audio in modo incredibile ma soprattutto essendo direzionale io mi riprendo parlo se ho il vento che arriva da dietro praticamente non si sente perché lui sta riprendendo dal lato opposto verso di me come si chiama quello a fare lì questo qui si chiama mood modifica se tu vai sul sito della eccolo lì gruppo media esatto eccoli là forse questo un centinaio di euro costa fanno la luce sì ma lì costa 95 euro chi va sul sito della gopro e si fa l'abbonamento a gopro plus che sono 5 euro al mese però puoi farlo anche un mese solo hai tutti gli accessori scontati dal 30 al 50% quindi wow di solito uno gli conviene va lì si paga 5 euro di mensilità di abbonamento e si compra tutti gli accessori di cui ha bisogno che sono scontati super super ok quindi con quello tu hai messo gli steroidi e la tua gopro esattamente abbiamo dell'altro lato video cosa? c'è altro lato video o ci buttiamo sul lato audio? dal lato video direi che c'è tutto perché alla fine questo è quello che vado ad utilizzare non è che ho tanta tanta attrezzatura e mi trovo bene con questo metodo adesso qui hai visto tante gopro la insta eccetera ma è perché le gopro le ho dovute acquistare la insta me l'ha andata la sto recensendo provando chissà magari in futuro se mi trovo bene con questa adotto questa per ora come tutto flusso di lavoro mi trovo ancora molto molto bene con queste qui perfetto due gopro e una canon per le foto esattamente super e allora ti direi caro Alessio che con un click passiamo al capitolo successivo componenti audio quindi vi ricordiamo che stiamo parlando dell'esterna quindi quel piccolo microfono da discount che adesso Alessio ha di fronte a sé non ne parliamo ora parliamo soltanto dei componenti da esterna eh sì perché in esterna all'interno in studio è facile gestire l'audio ti spendi un centinaio di euro per un buon microfono e sei a posto in esterna è un po' un casino perché c'è il vento se non c'è il vento quando cammini sui sassi hai tutto il rumore dei sassi che ti entra nel microfono hai il microfonino attaccato qui e cammini e senti c'è il giubbotto che gratta insomma non è non è non è proprio semplice e per fortuna i prodotti che hanno fatto e richiamo ancora una volta le GoPro le Insta stanno facendo veramente passi avanti sulla gestione del rumore e quindi sono dotate di 3-4 microfoni e riescono a capire da dove arriva il rumore quindi vanno a smorzare i rumori che non sono quelli della voce questa qui lo fa in post produzione tu registri prende tutto però dopo tu gli attivi la funzione dai la preferenza al vocale ora lei riesce in base all'algoritmo a dove arrivano i suoni riescono a capire e quindi va a tagliare tutte le registrazioni dei microfoni che non c'entrano e ti dà un audio bello definito dopo si può fare un salto di qualità cosa che io utilizzo qualche volta sono utilizzare dei microfoni esterni dedicati tutte le action cam permettono ormai di collegare dei microfoni esterni con l'attrezzino con degli agganci insomma in un modo o nell'altro esatto quelli li colleghi col jack giusto quello da 3,5 pollici esattamente quelli semplici col jack e poi utilizzare i microfoni non alimentati come il più classico e quello più utilizzato da chi fa vlog in giro ai road video micro che te lo danno con il bel pazzetto qualche gatto morto che questo qui se c'è vento va da dio te lo togli bene e senti un audio pulito compatto non ha bisogno di batterie eccetera il problema qual è che questi microfonini che non sono alimentati quindi non hanno una batteria dentro prendono l'alimentazione da da queste qua e quindi la potenza la capacità di registrare l'audio va bene fin tanto che parli da qua appena comincia a allontanarti uno due tre metri cala drasticamente e non si sente nulla per questo motivo io vado a utilizzare uno di questi qui è un po' più lungo però sono quelli alimentati quelli che hanno la batteria quando tu li accendi attivano un'amplificazione interna e quindi ti semplificano tantissimo il lavoro ho sul mio canale un video dove faccio dei test con questo e si sente proprio la differenza tra l'usare uno così e uno così dimmi bene il nome del modello di uno e dell'altro allora questo qui è il Cinco Cinco beh cerca la marca come si scrive Cinco così eccolo lì proviamo Cinco microfono eccolo lì guarda ce l'hai proprio lì il primo a sinistra è quello che ho io ok beh non è neanche costosissimo avrei detto peggio è una roba abbastanza economica difatti io sto facendo dei video dove ho delle ditte che mi mandano delle attrezzature e allora è facile recensire prodotti del genere che costano 800 euro perché nessuno ha detto che queste cose costano poco queste cam queste action cam costano poco costano tanti soldi costano come una mirrorless di base generalmente ma comunque prodotti costosi generalmente vanno bene è difficile trovare dei prodotti economici che vanno bene io la fortuna sono riuscito a a trovare qualche azienda che fa dei prodotti economici come questi ma che sono veramente veramente validi quindi senza dover svenarsi si può avere un prodotto per una volta è facile parlare bene avere un buon audio con i Shure SM7B da 400 passa euro non tutti possono permetterselo bisogna trovare anche delle soluzioni un po' più economiche si ma io guarda più vado avanti più mi convinto che comunque ti fermo lì un attimo fermo con lo schermo questo che ho in mano è uno che va un po' in concorrenza al Rode Video Mic NTG per dirti si lo immaginavo contro 90 euro cos'è questo lo immaginavo e io ormai mi dico in realtà un buon risultato è possibile ottenerlo senza spendere troppi soldi poi quando vai a spendere tanto vai ad affinare il 20% in più quello famoso del principio di pareto che in molti casi ha senso affinare altre volte no esatto lì a destra ne hai quelli neri sono quelli più costosi che ti fanno fare quel salto del 20% in più si certo e tra l'altro l'altro che hai mostrato immagino che sia questo qua Rode Video Micro che anche questo non ha un costo esagerato lo puoi usare anche col telefono questo sì perché ti dirò che per quello che costa tutto sommato probabilmente lo userò per il telefono ma mi viene da dire anche solo per mandare messaggi vocali cioè alla fine se sei in giro col vento io ne mando tantissimi a volte c'è un vento micidiale già con questo risolto il mio problema l'unica cosa che devi cercare è di avere perché i telefoni hanno l'attacco quelli che ancora hanno l'attacco jack tu utilizzi ancora telefoni con l'attacco jack io mi sono evoluto non ho più questi telefoni no però ho l'adattatore ho l'adattatore ci vuole sì il piccolo adattatore insomma bisogna stare attenti a quell'aspetto perché magari te lo danno con l'attacco per classico quello jack normale invece di servire l'attacco per smartphone ma te li tirano dietro vai alle cerchie online sì sì li trovi sicuramente vedi che c'era c'era il telefono c'era una foto eccolo qua però senza cavo lui là sta usando wireless guarda alla fine photoshop a volte hanno tolto il cavo ad esempio non si può usare così cioè ci vuole il suo cavetto e beh certo direi ok ok perfetto e quindi tu audio usi fondamentalmente quei due microfoni e in certi casi utilizzo quello che io adesso qui che abbiamo disattivato che è quello wireless wireless go anche qui questo è quello figo quello costoso ce ne sono alternative economiche che vanno altrettanto bene non dico simili che vanno bene uguale ce ne sono tantissime addirittura c'è chi adesso ti fornisce il doppio microfono con una basetta di cemento quindi eccolo qui vedi questi che costano 189 euro e sono costosi sono tanto costosi hai in mente la marca di qualche alternativa? anche la Synco lo fa quello di prima mi viene in mente lei così al volo perché dovrebbero mandarmeli in prova anche quelli lì e non so se o se cerchi Synco wireless se ne fuori qualcosa ma forse sono nuovi forse devono ancora metterli a catalogo probabilmente sì sembro di sì non li vedo c'è quello ma quello ce n'è quello lì ma quelli che mi mandano sono proprio fatti come questi qui della wireless della Rode sì 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 sono piccolissimi piccolissimi vabbè ma ci sono tante alternative e comunque quello di Rode funziona anche in esterna bene o c'è molto disturbo fruscio movimenti della maglietta funziona bene perché con la storia posso anche disattivare intanto quello qui eccolo qua questa qui è la basetta che adesso era attaccata al mixer diciamo per parlare questa qui c'è anche lo vedi l'indicatore del livello che io sto parlando quindi mi entra la voce da questo qui e questo qui vai ad attaccarlo o allo smartphone o alla alla basetta della GoPro o vai ad attaccarla alla alla mirrorless vai ad attaccarla dove vuoi esattamente come un qualsiasi microfono jack però la differenza è che non hai più il cavo di collegamento tra quello che è attaccato qui che è il trasmittente e il ricevente quindi io l'attacco e se ho il vento che arriva da dietro non entra e dopo comunque questi microfonini ricevono proprio vicino qua hanno la ricezione che è limitata a pochi a pochi centimetri quindi anche se hai in fianco una persona che sta parlando con questo qui magari la senti proprio appena 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 di sottofondo sono molto tentato di acquistare proprio quel road per i tutorial così almeno riesco a muovermi meglio io di solito ho qui il microfono poi guardo di là e devo stare attento poi guardo la telecamera e devo stare attento e credo che con quello risolverei qualche piccolo problemino logistico negli ultimi video che ho fatto ci sono gli ultimi l'ultimo video quello dove recensisco no il penultimo dove recensisco un prodotto simile a questo un gimbal tu mi vedi che parlo eccolo lì quello con lo scatolotto bianco in mano esatto se tu mi guardi sto parlando e non ho microfoni davanti in nessuna parte a parte la fase iniziale ecco qui vedi parlo e io lì sto parlando con questa vasetta che ho qui sarà di questa che però ha anche l'ingresso jack per un microfono lavalier quindi avevo il lavalier nascosto sotto la maglietta e questo qui che è il trasmittente ce l'avevo in tasca collegato col cavetto chiarissimo quindi io parlo e potevo muovermi muovere le mani spostarmi girarmi prendere la scatola per terra potevo fare tutto quello che volevo e era quello che volevo fare anche adesso che eravamo qui cioè tenermelo qui potermi muovere sullo studio senza dover preoccuparmi di attenzione microfono è qui se mi sposto mi sento più distante se cambia cambia l'audio esatto esatto che è un po' quello che voglio fare fammi sentire un po' il risultato e dopo nell'esterna non si vede assolutamente nulla avrebbero dovuto fare una cosa simile ai led laterali ovvero impostare però è un peccato è un peccato perché te l'avevo già anticipato nell'unboxing questo gimbal permetterebbe e beh sì dai l'audio è proprio buono allora considera che non ho fatto editing audio io l'ho preso l'ho buttato se ci lavori l'audio ti viene fuori diciamo che cambia molto secondo me proprio il come dire il non mi viene una mi viene il profumo dell'audio che fa ridere solo dirlo cioè si sente tanto la differenza quello che stai usando adesso quando sei passato da uno all'altro si sente tanto che questo è molto più radiofonico quell'altro invece è molto più è molto più forse televisivo mi verrebbe da dire cambia tanto provate a dire così questi qui sono molto più radiofonici appunto broadcast quindi ti danno anche belli corposi ovviamente probabilmente catturano molta più non so come si chiama della voce molta più frequenza frequenza non so questi qui probabilmente tagliano tantissimo appunto perché devono dar risalto alla voce e tagliare tutto quello che gli disturbo però questi qui se uno ci lavora due secondi o si fa un preset lo lavora una volta come tu sai farlo sicuramente ti lavori l'audio una volta te lo crei più cicciotto più bello più immersivo e poi ti fai il preset e ogni volta che vai a utilizzare questo tac tac e ce l'hai tutto uguale intanto quando tu lo posizioni sempre al stesso posto non hai problemi c'è Marco Mario Palladino che è un altro youtuber lo conosci tu sicuramente lui utilizza Sinergo è più noto come Sinergo esatto lui utilizza questi e se tu senti lui li utilizza e se senti lui quando parla prova a sentire l'audio dei suoi video e utilizza questi bene roba pubblicità Mario ci buttiamo dentro anche qualche centesimo per Mario e una pubblicità questo sarà un video massima risoluzione e se io dovessi usare sempre il 6k avrei dei file enormi che magari non mi servono trovo più comodo usare il 4k che è ancora ben oltre lo standard di visione di molte persone a proposito di 4k e cavoli poi va bene lui è un professionista pazzesco lui è un professionista sa sicuramente settare ha fatto anche dei video dove spiega cosa fa con questi qui come li setta però si ce li ho presente se senti i lavori fare le cose fatte bene io sono un cialtrone non ho voglia di stare lì ci sta senti ma la batteria di quel affarino della della rode com'è ecco la la fregatura di questi apparati qui che non hanno delle grandi autonomie allora onestamente non ricordo quanto durano perché hanno il display che indicano la batteria io guardo quello io l'ho utilizzato oggi e oggi l'ho utilizzato con te quindi è da un'ora che stiamo parlando circa loro sono accesi da un'ora avrà fatto un sesto di tutto lo spazio si è mangiato un sesto della tacchetta ok quindi dura penso durano un paio d'ore al massimo ok ma e come si ricarica usb o cosa usb c di colleghi e ovviamente li devi ricaricare entrambi sì esatto perché ognuno ha la perfetto ha la sua presetta senti dimmi se abbiamo se abbiamo delle altre cose audio outdoor particolari quindi hai fondamentalmente tre microfoni che ruoti a 90% utilizzo direttamente l'audio come esce dal prodotto ah ok sì sì praticamente tutti sono quelli registrati qua perché hanno un buon sistema di riconoscimento da dove arriva la voce quindi se me la parlo di fronte dà maggiore risalto al microfono anteriore se parlo da dietro automaticamente lei dà maggiore a quello posteriore a quello posteriore all'antivento che funzionano molto bene l'antivento integrato quindi quando sentono dei microfoni che arriva delle folate di vento lo smorzano o tagliano quel microfono lo spengono sono molto automatizzate sono fatte per essere accese usate e via super se dopo voglio fare delle cose fatte bene uno di questi due per iniziare uno può andare via tranquillamente con questo anche perché comunque se uno vuole fare vlog o robe del genere eh? no dico se uno vuole fare vlog o robe del genere magari gli basta quello lo tiene vicino tutto sommato è una garanzia il bello è che ti danno questo qui questo qui veramente ti salva la vita se c'è del vento non può esserci del vento forte tu parli senti limpidissimo certo è un'intenzione che da poco basta poco vedi un po' di pelo e ti cambia tutto senti caro Alessio caro Alessio passiamo al capitolo successivo se sei d'accordo sì quindi buttiamoci un pochino sul software e sul tuo flusso di lavoro quindi una volta che tu hai registrato le tue varie tracce audio video tutte le varie cosine eccetera eccetera che cosa fai? allora io arrivo a casa e faccio una bella cartella su un hard disk esterno che utilizzo per buttare tutti i video che dopo andrò a lavorare faccio una cartella e le butto dentro lì tutte quante divise per la cam che ho utilizzato quindi ho la cartella GoPro Hero 8, 9 ho la cartella GoPro Max eccetera Insta360 EOS R quel che c'è dopodiché importante ricordarsi di aver sincronizzato l'orario delle cam altrimenti diventi pazzo sì posso là dopo cioè devo lavorare devo capire se ci sono delle riprese doppie ovvero se ho quella sul petto e quella davanti quindi quali sono da sincronizzare ma generalmente io prendo la cam che mi fa da base di tutta la storia generalmente è quella sul petto fa la base di tutto e la butto sulla timeline e sopra ci vado a buttare le riprese che ho fatto così quindi tu parti da una e sincronizzi sulla base di quella tutte le altre esattamente perché questa qui è quella che mi fa il grosso quindi mi riprende un po' tutto il contesto anche se dopo l'audio che andrò a far sentire sarà quello registrato dalla cam questa qui perché è migliore di quella che ho qui sul petto che è bassa viene più cupo eccetera però mi serve come base sulla quale sincronizzare il tutto quindi tu prima sincronizzi e poi vai a selezionare le parti che vuoi tenere quelle che scarti sì 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 io di solito prendo butto tutto sulla timeline quello iniziale butto sopra le clip dove fate con le altre da sincronizzarle e dopo decido faccio la regia dopo decido come tagliare cosa far vedere bello e c'è qualcosa magari esatto mi chiedevo se volessi mostrarci qualcosa anche molto rapidamente chiaro che non è un tutorial questo no 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 ma assolutamente guarda ti faccio vedere questo qui questo che software è intanto? questo qui è Final Cut che è un software solo per Mac e va bene ha delle caratteristiche ma non stiamo qui adesso a guardare è un software di montaggio come tanti altri e questo qui ti dà un'idea qui sotto ho questa qui principale dove sto passando col mouse è la timeline principale e dopo sopra aggiungo dei spezzoni che magari sono stati aggiunti dopo in questo caso anche poco non ho fatto grandi grandi sovrapposizioni però il concetto è quello certo in studio cosa stavi usando? come scusa? lì queste riprese da studio con che cosa le stavi facendo? esatto allora in studio utilizzo sempre la EOSR gli faccio vedere la qualità aspetta fermati perché poi c'è il capitolo studio per cui era solo una curiosità volevo capire che cosa usavi giusto perché l'ho notato si si no si nota proprio il salto di qualità che altro dire col montaggio video utilizzo Final Cut ma volendo si può utilizzare anche Da Vinci Resolve io so utilizzarlo anche quello tu hai fatto un bel corso per chi vuole conoscere Da Vinci Resolve imparare a utilizzarlo io utilizzo anche quello utilizzo Final Cut prevalentemente perché è ottimizzato per il sistema Mac quindi velociza una spanna sopra la velocità che lavoro con Da Vinci questo tipo velociza ma intendi che è ottimizzato e ti velocizzi in termini di elaborazione oppure in termini che ne so io di scorciatoie da tastiera no no elaborazione è molto più veloce nel renderizzare i video nel ottimizzarli questi qui sono clip queste qui che vedi sono clip a 5k e scorro cioè non va a scatti certo sì noi lo vediamo un po' a scatti perché lo vediamo da Skype sì no a me va liscio liscio se tu provi a buttare su un 5k su un qualsiasi computer con qualsiasi altro sistema di montaggio o hai un computer da 7000 euro con schede video assurde o tendi a andarti a scatti devi lavorare con delle ottimizzazioni particolari certo ok quindi vai con Final Cut quando registri podcast che cosa usi quando registro il podcast vado direttamente con la registrazione del del roadcaster ok quindi registro direttamente con il roadcaster tiro fuori la traccia e il road con gli ultimi aggiornamenti hanno già messo l'esportazione con i preset in base se lo pubblichi su iTunes su Anchor su Spreaker praticamente ti crea già il volume quelli richiesti dal sistema ok e se devi tagliuzzare o fare cose del genere tagliuzzare allora generalmente non taglio praticamente mai il podcast taglio solo la parte iniziale finale e quello lì puoi farlo con qualsiasi software di editing tracce audio da Grey's Band a Fission che è un software per Mac a quello ok si non hai bisogno di grandi cose no no perché taglio solo magari il silenzio iniziale il silenzio finale infatti io faccio delle elaborazioni non faccio ottimizzazioni perché le fa tutte il roadcaster che adesso ha anche il compressor riduzione del rumore tutto lo fa in presa diretta lui ti salva due tracce quella grezza e quella ottimizzata quindi se quella ottimizzata non ti va bene perché magari hai esagerato puoi comunque riprendere di mano la grezza e farti tu l'editing insomma chiaro e l'ultima cosa che ti chiedo mentre tu nel pallino sei praticamente sparito ma rimani lì che si vedono le tue cose no 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 non ti preoccupare non ti incasinare su queste cose e volevo sapere invece per le foto cosa fai? allora per le foto io vado prima ti dico una cosa però su tutti i video io lavoro già con tutta una serie di cose già pronte ok perché l'intro l'outro l'editing di base della prima di questa videocamera ho già tutti i preset pronti di miglioramento del video anche la GoPro ho già fatto un preset per per dargli un colore particolare eccetera quindi e senti tecnicamente questa cosa si fa creando un progetto che poi vai sempre a salvare con nome o Final Cut ti dà delle altre possibilità no puoi scegliere tu o fai un progetto che ogni volta salvi con nome è differente io invece preferisco mi sono creato un progetto con già dei preset pronti lavoro con una specie di livelli crea una una cosa sopra che va ad influenzare il video quindi la color il color eccetera ho già tutti i pestettini fatti e proprio lì copio e incollo ok quindi ti selezioni tutta la timeline e te la copio e incollo volendo posso anche fare il preset ma sono talmente pigro nel farmi il preset che quindi potrei semplicemente richiamare il preset me lo applica e io faccio il copio e incollo da una cosa precedente ma una cosa che mi fa uscire di test è che quasi tutti questi software di video editing Final Cut non lo conosco neanche un po' non l'ho mai visto in vita mia ma non sono eccezionali coi preset cioè alla fine anche DaVinci Resolve per farti un preset devi stare otto ore che alla fine ti passa la voglia e fai prima a prenderti un progetto e a fare il copio e incolla non capisco perché hanno questa questa cosa qua boh boh anche qui cioè tu forse è un pelo un pelo più facile su Final Cut perché in stile Apple cercano di rendere le cose semplici tu hai un hai creato una color che ti piace e vai semplicemente vediamo qui eccolo qui basic e vado qui salva ok qui su edit scusa eccolo qui salva il preset eccolo qui mi chiedi dagli un nome e cosa le cose modificate gli dico cosa cosa fargli gli do il nome e lui me la crea quindi è già pronta mi basta trasferirla è un po' più veloce ma chiaro dopo c'è sempre una piccola modifica da fare quindi io di solito copio e incollo e dopo senti dimmi cosa usi per le foto 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 io utilizzo principalmente Capture One Pro 20 per l'editing iniziale se dopo bisogna fare degli editing molto più avanzati si passa per software come Photoshop oppure Affinity Photo che sono delle alternative Photoshop è più costoso o meglio costa meno ma lo paghi mensilmente per sempre Affinity Photo costa 50 60 euro ma lo compri una volta e tu per sempre ormai da quello che sento da esterno non ho mai usato ne uno ne l'altro ma sento un sacco di gente che sta passando Affinity Photo eh perché ho fatto io il corso il corso giusto imparano ad utilizzarlo e ci rendono conto che va bene Affinity Photo per praticamente tutte le foto che vai a gestire in modo avanzato ma e invece con quell'altro di prima che cosa ci fai quindi? L'altro allora l'altro Capture One è un tecnicamente chiamato Raw Converter ovvero ti lavora i file grazi della fotocamera io scatto con modalità file grazi e e ti permette di fare estrapolare il massimo da da quel file grazi vediamo questo esempio guarda se butti il mio schermotto tu tanto stavi facendo vedere il mio corso stavo sbirciando e tra l'altro fammi dire quindi tu hai il corso sia su Affinity Photo che su Capture One oltre che su sì sì esatto ci sono due software no su Photoshop no su Lightroom cosa? no stavo guardando pensavo anche su Photoshop invece vedo Lightroom no ci sono tanti che mi chiedono di Photoshop ma io non lo faccio perché Photoshop ce ne sono già tanti che spiegano i corso su Photoshop quindi sì ok potrei farlo venderei il corso magari ai miei clienti ma ma sarebbe un controsenso dire prendi il mio perché è meglio sono una valanga di certo invece Affinity Photo potrei dirti ok di Affinity Photo non ce n'è quasi nessuno in Italia ci sono io o qualcun altro che fa il corso di Capture One ancora meno cioè sono software un po' di nicchia però sono utilizzati però sono dei raw converter questo qui è Capture One sono dei raw converter e per darti un'idea questa qui è un file grezzo significa che è un file come un negativo a pellicola e dal negativo tu puoi ricavare praticamente un sacco di dettaglio quindi recupero informazioni qui sulle luci che vedo le nuvolette eccetera però posso dire ok schiariscimi le ombre perché voglio vedere meglio sotto lì cosa c'è chiarissimo ed è meglio fare questa cosa con Capture piuttosto che con Lightroom o con Affinity Lightroom è praticamente uguale a questo è l'alternativa di Adobe a questo o questo è l'alternativa ad Adobe e invece non puoi fare o puoi farne in modo molto molto più difficile queste cose con Affinity Photo o Photoshop adesso ho capito è per quello che Adobe ti vende il pacchetto che è Lightroom più Photoshop ho capito infatti quello che mi sfuggiva infatti ti avrei chiesto non usi Lightroom ok Capture One è praticamente l'alternativa a Lightroom e Affinity Photo quella a Photoshop si dopo anche Lightroom e Photoshop cioè io li utilizzo tutti poi con la storia che faccio i corsi quindi devi anche un pochino usarli anche per per conoscere le novità eccetera se uno mi chiede meglio uno o l'altro dico ognuno ha i suoi pregi i suoi difetti se vuoi risparmiare vai su Affinity Photo se 140 euro all'anno non sono la fine del mondo prenditi il pacchetto Adobe che è quello più completo perché con 140 euro all'anno 144 hai il pacchetto completo con due software strepitosi certo perfetto allora secondo me caro Alessio ci siamo anche sul software e ti direi che ci buttiamo a volo d'uccello quindi un pochino a grandi linee senza entrare nel dettaglio tanto quello che ci interessava era l'outdoor sul tuo studio indoor quindi le cose che abbiamo visto il microfono mixer telecamera dimmi un po' come registri la parte interna allora la parte interna come abbiamo visto dagli spezzoni io generalmente piazzo la cam lì dove adesso c'è la webcam che mi sta riprendendo infatti l'inquadratura è questa però se io se uno si gira un pochino qui si trova un muro giallo con un cuore gigantesco aspetta che la cameretta di mia figlia è la stessa cosa guarda io ho lo stesso problema io sono nella ex cameretta delle mie figlie e basta spostarsi un po' che ci sono ancora tutti i poster Frozen Animaletti Harry Potter e robe del genere quindi viviamo lo stesso problema e dopo io di solito cosa è che faccio beh qui ho attaccato dei quadri un po' per la bellina giusto per sembrare un po' più macho rispetto alle Barbie certo qui ho un trapiede con una luce che adesso qui con la webcam si vede malissimo se andate a vedere i miei video vedi cosa vuol dire avere una luce controllata con la mirrorless eccetera eccola qui vedi c'è la luce ho scelto col colore dietro ho ripulito la scrivania in modo da vedere solo il road bello illuminato con le lucette che fa figo e basta però e puoi tornare su di me con l'incodratura se io ti sposto appena qua c'è il mondo c'è il mondo c'è il mondo c'è il disastro certo c'è veramente il casino e ho anche sistemato perché dovevo fare il video certo qui dopo guarda ancora come dicevo cerco di girare piano perché un po' lagga il cuoricino la confusione e qua ho sempre lui guarda è tranquillissimo tra l'altro si si che ogni tanto ronfa ogni tanto ronfa e quindi ho bisogno di mettere la musica di sottofondo sul podcast altrimenti si sente che ronfa perfetto perfetto guarda io questa cosa qua delle luci è una cosa che ancora non ho affrontato nella mia vita ma devo muovermi perché effettivamente la luce posteriore fa la differenza sui tuoi video che manca era meglio sul video sul studio precedente forse perché avevi lo sfondo uniforme si si quindi bastava anche una luce e la luce quando ti illumina basta è vero tu ne tenevi una anche in basso forse ma in realtà dopo avevo smesso perché poi di fatto lo sfondo era così bello che non ce n'era bisogno esatto invece quando cominci a avere tutto sto casino o comunque anche come te cominci a avere tanta roba dietro si si anche l'armadio c'è la necessità di mettere della luce che ti concentra un po' l'attenzione su di te è vero è vero ma tra l'altro io qualcosino ho anche è solo la pigrizia di mettermi settarlo devi spendere quelle due ore iniziali che ti sistemi tutto e ancora non ho voglia perché poi mi dico tanto comunque questa roba qua è provvisoria io adesso voglio mettere qui davanti all'armadio una tenda che mi fa anche da fonoassorbenza perché c'è il riverbero quindi metterò una tenda praticamente io che cosa faccio voglio mettere su quella parete lì un tassello che arriva con un filo di ferro fino a quest'altra parete e lì per tutta la lunghezza dell'armadio ci metto una tenda o metti un tubo di quelli da tenda che la fai scorrere sì e che non so se c'è così lungo non so se riesco ad arrivare perché qui saranno un bel 4 metri 3-4 metri ok è un po' lungo esatto e poi qui in realtà questi cosi qua li ho messi un po' d'emergenza tanto per riempire un po' pensavo di togliere i pannelli fonoassorbenti e di magari mettere una libreria mettere qualcosa ovviamente riverniciando di un colore che mi piace di più non che non mi piace il viola però questo qua è vecchio cioè si vede che è tutto anche rovinato tappeti per terra che assorbono esatto in realtà ho messo anche queste bravo le poltrone che sono due poltrone fonoassorbenti che non uso mai mai se non per per cercare di attutire un po' il riverbero ancora si sente e con questo microfono già lo sento relativamente poco sì sì ma con per esempio il lavalier si sentirebbe tanto quindi devo un po' sistemare anche sta roba qui dentro da me ci sarebbe un riverbero assurdo considerato che sono quattro muri e spoglio però anch'io eccola qui tenda fonoassorbente eh sì esatto qui ho una finestra dentro altrimenti mi arriva dentro della luce troppo forte e lì ho la tenda fonoassorbente quella lì è una tenda fonoassorbente che però mi smorza tantissimo il riverbo tantissimo interno e qui sotto ho un tappeto ho tutto il tappeto eh guarda il tappeto effettivamente è anche bello poi a starci sopra guarda io ho un amico che fa il musicista proprio una rock band e lui una volta quando ero sullo studio giù quindi tanta più rimbombo eccetera gli chiedevo porca miseria devo trovare una soluzione per togliere tutto questo rimbombo eccetera cosa ne pensi di questi fonoassorbenti di questo addirittura avevo pensato di acquistare è presente che vendono delle stanze vere e proprie di tre quattro metri dove tu ti vai dentro ti metti il mixer e registri dentro lì e sono le camere non è uno studio è una camera avevo pensato anche a quelle ho detto perché non riuscivo a registrar bene e lui mi ha detto ma non ce l'hai un piumone a casa ecco vedi butta su piumoni butta su piumoni sì sì guarda a registrare questi studio tour mi viene una voglia di sistemarmi ma adesso lo faccio è proprio pigrizia pura pigrizia pura senti dimmi un pochino allora cosa sono questi pezzi di hardware che abbiamo lì davanti partiamo dalla tua bocca allora questo qui è il microfonone sure sm7b il leggendario micro esatto direi leggendario lo chiamano così leggendario sure sm7b perché ha una fama abbastanza nota di microfono a parte iper costoso eccolo lì ma se voi andate a vedere il film sui queen ad esempio se guardate quando stanno suonando stanno registrando sul non mi ricordo su una fattoria una roba del genere vedi che hanno i microfoni hanno questi microfoni utilizzano questi microfoni praticamente tutti i podcaster importanti utilizzano questi microfoni stavo cercando proprio Joe Rogan per farlo per vedere lui li utilizza eccolo qua a questi microfoni Joe Rogan per chi non lo sapesse lo conoscete sicuramente ma è probabilmente oggi il podcaster più famoso al mondo ha venduto l'esclusiva del podcast a Spotify per diversi milioni di dollari quindi e lui usa proprio questo sì esattamente quello che ho io però io non ho i milioni non faccio i milioni per dire che non è a fine il microfono è uno sfizio perché io ho il microfono come il tuo lo sai bene ce l'ho e cos'è che ti ho detto tempo fa che ogni tanto mi capita mi viene per le mani quindi lo butto su ci gioco un po' lo tengo un po' usato e ti ho detto che alla fine la differenza è veramente impercettibile sì è sbagliato dire anche c'è differenza sì è sbagliato dirlo ma ti dirò guarda ti dirò adesso la dico forte magari alcuni si offenderanno non saranno d'accordo ma io ho anche questo microfono qua dove è l'h della Behringer Behringer il microfono ce l'ho anch'io eccolo qua Ultra Voice XM8500 16,40€ e se io ti dico che la differenza fra questo Rode Procaster e quello da 16,40€ la senti non è che non la senti ma se non ci fai caso non te ne accorgi guarda che è incredibile ma sì ma sai qual è io ho anche quello lì che è sotto di il Behringer C1 anche quello io ecco va bene comunque comunque a volte guarda a volte serve anche coccolarsi quindi secondo me ci sta se te lo puoi permettere vuoi permettertelo di prendere quella cosina in più anche per sfizio hai detto giusta hai detto la parola esatta cioè nel tuo caso nel mio caso quello che facciamo è un lavoro cioè non è un hobby che uno deve dire cavoli devo stare attento perché magari spendo troppo per il mio hobby ma è una roba che facciamo per lavoro e a volte coccolarsi per una roba che magari si fa 3, 4, 5, 10 ore al giorno tutto sommato ci può stare purché uno lo faccia con la consapevolezza che si sta togliendo uno sfizio sì e dopo io aggiungo una cosa che tante volte la differenza tra questo microfono da 400 euro e quello da 16 si vede quando devi fare delle cose particolari allora lì magari riesci a sentire la differenza c'è da capire se per gli usi che farai tu arrivi a fare quelle cose particolari ovvio che se io questo qui lo metto davanti una cassa Marshall di un chittarrista e metti quello da 16 euro sto qui ti tira fuori il mondo di suoni l'altro magari si impasta per dirti certo tutto brutto delle cose ci sono degli aspetti dove questo tuo dà delle cose in più rispetto a quello più economico ma questo uso che stiamo facendo ora non è sufficiente per far venire fuori quelle differenze si poi magari se sei a dele per dire o Amy Winehouse e ci canti in uno e nell'altro si sente la differenza se sei ciraolo forse meglio se usi quell'altro che magari si sente meno la tua voce ed è solo meglio così esattamente io ho preso questo perché smorza un pochino così non si sente molto esatto ok dai poi da lì dove arrivi quello lì questa asta è quella sua della Rode che però onestamente non mi piace mi piace molto più quella che ha fatto la Blue la Yeti la stessa che fa i microfoni che è una bellissima che costa una fucilata ma è bellissima e quindi rimane lì perché intanto l'asta non è che sia proprio una roba che serve così importante e qui ho uno dei più bei acquisti che ho fatto da sempre e te lo dirò sempre tu che giri con quei mixoni ci abbiamo fatto anche una puntata su quello e quindi rimandiamo anche a quello hanno fatto ancora aggiornamenti dopo quella puntata sai quindi l'hanno migliorato ancora sono cose assurde ed è uno dei migliori acquisti perché mi semplifica tantissimo il lavoro quindi che cos'è che cos'è Rodecaster come cos'è lo conosci molto bene no io lo so però magari gli altri no sì no allora Rodecaster è un mixer apparentemente è solo un mixer in realtà è una console che ti permette di avere le musiche di sottofondo non so se si sentono sì l'abbiamo sentito esatto spegniti ok tutto quanto puoi collegare degli apparati esterni dallo smartphone se hai lo smartphone si collega in bluetooth e quindi puoi chiamare qualcuno entra all'interno della tua discussione tu lo senti sulle cuffie puoi collegare fino a quattro persone quindi parlare assieme a altre quattro persone sullo stesso progetto quattro ingressi audio i microfoni accetta tutti i tipi di microfono anche i microfonini quelli con il jack accetta basta avere l'adattatore e da qui faccio tutto io con questo io faccio dai podcast inizialmente lo usavo solo per i podcast adesso questo qui faccio tutto faccio podcast faccio le parlate con te registro i corsi sempre tramite il il roadcaster che dopo ha il vantaggio che con la storia che lui registra internamente quindi non hai nemmeno la necessità di tenerlo collegato al computer io posso anche scollegarlo adesso addirittura hanno fatto anche il powerbank che lo attacchi con il powerbank e quindi non corre nemmeno la presa di corrente cioè lo utilizzi dove vuoi vai in giro con il powerbank e lui si alimenta ma è esterno giusto? sì 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 l'hanno fatto tutti gli accessori c'è questo powerbank che si attacca all'alimentazione qui sua e si alimenta quindi tu vai avanti e registri dove vuoi e niente è uno degli acquisti che proprio mi ha semplificato di più il lavoro non significa ancora una volta che sia meglio di quello che utilizzi te del sistema che utilizzi te probabilmente il sistema che utilizzi te è anche migliore perché ti permette delle personalizzazioni molto più avanzate però questo qui mi semplifica il lavoro sì nel mio caso specifico ti dico c'è stato un periodo in cui mi ha tentato il roadcaster ma oggi non lo comprerei oggi probabilmente prenderei una cosa ancora meno evoluta di quello che ho quindi andrei con una scheda audio neanche prenderei il mixer perché io preferisco per il mio workflow fare tutte queste cose lato software però senza dubbio il roadcaster per chi invece vuole semplificarsi la vita e velocizzare il flusso di lavoro e oggi credo il non plus ultra esatto infatti è quello che mi ha portato un po' anche a riprendere in mano i podcast perché ho le musichette già registrate qui che ce le ho messe io quindi parto con l'intro parlo registro rivolgo a fine outro finito stop registrazione direttamente dal software una volta dovevo tirare fuori la schedina buttarla su su computer adesso hanno fatto direttamente dalla loro applicazione da desktop vado lì scarica podcast lui se lo prende gli dici quale file lui se lo prende se lo tira dentro già con il preset in base appunto se lo vuoi buttare su anchor su itunes eccetera e in più hai anche le tracce grezze quindi se vuoi intervenire manualmente lo fai sì sì quella è una cosa che invidio che invidio molto questa cosa qua mi velocizza tantissimo che altro abbiamo qua questo forse non abbiamo parlato è l'unico accessorio che non ho parlato quando io faccio le uscite mi capita tantissime volte visto che vado sulle dolomiti dalle mie parti che non c'è copertura e quindi sono in giro da solo vado su posti dove non c'è copertura GSM praticamente o è veramente scarsa difficile e quindi ho voluto adottarmi in un attrazzino questo qui che è un un GPS satellitare bidirezionale ovvero puoi anche inviare messaggi tramite satellite quindi puoi fare tutto da qui con quattro bottoni ma il suo punto forte è essere collegato allo smartphone quindi non ha necessità anche lì di copertura si collega via bluetooth a quello e tu scrivi messaggi direttamente con lo smartphone e passano attraverso la rete satellitare ah ok mandi gli sms in questo caso si sms si sms si alla fine si si sono sms che passano attraverso la rete satellitare arrivano a destinazione con anche un link che cliccando vedono dove sei e dopo ovviamente ha il pulsantone SOS che cliccando lì si arriva la cavalleria questo qui non è gratuito cioè nel senso il costo 200 euro l'algeggino qui è un si va o canoni mensili o annuali a mensili sono 20 euro oppure 200 euro l'anno ok e hai il servizio che praticamente lo utilizzerai una volta nella vita ma quando quella volta ti serve hai ammortizzato la spesa tu puoi essere ovunque cioè ovunque nel mondo tu puoi essere e loro ti rispondono tramite messaggio e ti chiedono di cosa hai bisogno quindi tecnicamente sei rimasto a piedi con la macchina e non prende il cellulare puoi cliccare qui ti rispondono loro dal centro statunitense ma dopo ti deviano ai vari operatori che parlano la tua lingua e ti chiedono di cosa hai bisogno e quindi puoi dire è stato un errore sono rimasto a piedi con l'auto il cellulare non prende il bisogno in qualche modo ti mandano il soccorso stradale ti sei fatto male ma non gravemente hai bisogno solo di un'ambulanza che arriva ti mandano l'ambulanza via strada sei però in cima alla marmolada non ce la fai più arrivare in cima e sei attaccato sul crostone il cellulare non prende premi qui e loro ti chiedono cosa succede tu gli spieghi ti mandano se tu ti sei fatto talmente male che non riesci a parlare sei in difficoltà perché non riesci a smanettare se loro entro un minuto non vedono risposte in base a dove ti vedono che ti trovi in base alle posizioni di gps se sei in montagna in mezzo al mare in mezzo all'oceano loro ti mandano quello che serve l'elicottero la come si chiama la capatineria di porto eccetera carino carino cavoli e tu quindi fai quell'investimento anche mensile per questa cosa ne vale la pena sì allora io la prima volta ho voluto provarlo annuale quindi ho fatto l'abbonamento annuale in realtà dal prossimo anno quando scade lo farò mensile andrò a pagare solo i mesi che mi servono certo perché magari non sei sempre in giro sì no infatti però io ad esempio sembra una sciocchezza sembra una sciocchezza ad esempio io questo quando vado fuori in un posto anche magari dove prende il cellulare ma dove sono incerto prende non prende attivo la funzione di tracking che invia la posizione a dei numeri di telefono che è la mia ragazza la mia compagna eccetera ai miei genitori e loro se vogliono vanno lì e vedono dove mi trovo in un dato momento e possono cliccare su link e vedere sul punto sulla mappa dove mi trovo quindi bello dire la verità che la tua ragazza lo mandi anche per dimostrare che non sei con un amante o con qualcun altro lei ti controlla e poi te l'ho vista particolarmente contenta quando l'ho preso soddisfatta ma dove vai a spendere soldi per queste robe qua esatto ah vai vai ah bello così così no è interessante interessante anche quello senti dicevi comunque che usei la Canon che abbiamo già descritto per le riprese in studio sì c'è qualche precisazione che serve fare o abbiamo già detto come setup luce ho la luce quella che illumina lo sfondo solo per dargli un po' di bellezza non averlo bianco e ho una luce di fronte questo è tutto ok che luce usi una luce led riusciamo a vederla un pannello led vediamo se riesco a fartelo vedere ok è il più classico dei pannelli led che trovi della Newer sì 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 alla fine li fanno tutti loro sono quelli rettangolari e ho preso uno di quelli non è fortissimo forse ne servirà di un altro però per ora va bene insomma sì sì poi l'illuminazione comunque è molto bella è anche bella omogenea proprio che è come si può dire la cameretta che ho rubato a mia figlia bello avevo e avrò perché prossimamente ritornerò nel studio risistemato quindi cambierà un po' tutto senti Alessio allora ci siamo raccontati tutte le cose nerd tutte le cose che tu utilizzi dentro fuori a metà ma non lo so io ma in tutte queste cose ci sono delle cose di cui ti sei pentito e quindi ragioniamo un pochino sul nostro confessionale quali sono gli acquisti le scelte l'hardware che tu dici no questa roba qua non la rifarei mi raccomando non fate il mio stesso errore allora io ho un sacco di microfoni prima cosa ho veramente un sacco di microfoni cosa è un altro quello che ti avevo detto quello grigio non mi viene il nome il Behringer esatto il Behringer ho il Procaster ho quello nero ne ho venduti un paio ho il Broadcaster il mixer ho un mixerino simile a quello di tuoi ma quelli più piccoli sì quando avevo iniziato quindi come i microfoni e dopo i microfoni non avevano adesso me li mandano adesso adesso mi li regalano tipo anche questo qui me l'hanno regalato che è un lavalier adesso mi li regalano una volta no dovevo comprarli tutti e compravo tanta roba e lì ho sbagliato veramente ho sbagliato però è anche difficile dire non devi farlo perché io sono arrivato a trovare il mio setup dopo aver fatto degli sbagli sì non è facile dire eh sì facile vedere dopo è difficile lato fotografia un sacco di acquisti sbagliati ad esempio l'ho accennato all'inizio della nostra chiacchierata ovvero tendiamo a guardare cosa fanno gli altri e andiamo a prendere le attrezzature che hanno loro tralasciando invece l'analisi che dobbiamo fare su di noi cosa serve a noi un esempio io faccio tante riprese video in esterna e avevo preso la Sony Alpha 6.4 con il suo 10-18 mm fotocamera strepitosa per fare vlog cam per fare riprese vlog il problema è che non era stabilizzata dovevo girare con dei gimbal ovvero degli attrezzi meccanici motorizzati per stabilizzarla non era resistente alle intemperie dove andavo su sui percorsi difficili se scivoli ti cade per terra è distrutta prendi e torni a casa hai finito di fare le tue riprese e lì è stato lo sbaglio che sono andato ad acquistare dei prodotti perché vedevo che li utilizzavano gli altri quando in realtà a me serviva un prodotto così serviva un prodotto così che ha meno qualità indubbiamente in condizioni specie di scarsa luce ma piove non c'è problema video sulle trecime di Lavaredo stava piovendo ci sono molti spezzoni dove giro e si vede che sta venendo giù acqua che Dio la manda questa qua mi è volata per terra un disastro di volte mentre camminavo su per la montagna cammino scivoli ti vola via il bacchetto con questa su boom per sbatte per carità ha il suo involucro in gomma però gli dai una bella sacagnata se hai una mirrorless ciao torni a casa finito il giro quello lì cioè tendiamo a guardare gli altri invece dobbiamo guardare cosa facciamo noi oppure dobbiamo cercare gente che fa le cose che facciamo noi o che si avvicinano tipo io faccio video in esterna in montagna in mezzo ai boschi eccetera ok devo guardare chi fa escursioni per capire cosa utilizza non devo guardare il ciraolo che fa i video dentro in studio dire ah guarda che bel microfono guarda che bella fotovideocamera che utilizza per per le riprese e così dobbiamo farci un'analisi anche a andare a discapito della qualità perché meglio un video riuscito ma leggermente di qualità inferiore secondo me che andare via con l'attrezzatura più figa del mondo alla pattern mckinnon e poi trovarsi in difficoltà a fare il video trovarsi in difficoltà a fare il clip perché è pesante e quindi hai meno voglia anche di fare la clip bravo anche perché a volte il problema è proprio quello che se tu devi tirare fuori uno studio fotografico ogni volta che devi fare una foto o una ripresa la prima volta la fai la seconda lo fai ma magari dopo che sei salito e sei mezzo sceso da una cima e già il tramonto e cominci a essere stanco a un certo punto ti dici ma no dai ce ne ho già abbastanza sto giro la salto e poi magari la settimana dopo te ne stai proprio a casa neanche ci vai sulla cima perché dici sì ora che mi sono fatto lo zaino non c'ho neanche voglia e quindi bisogna anche ragionare in questi termini cioè in termini di velocità poi nel cui fai le cose cioè ti mantieni solo il piacere e non tutto lo sbatti di organizzare sistemare a meno che non ti piace quella roba lì cioè c'è chi gode magari nel tirare fuori la telecamera e allora fai bene a usare quella telecamera sì sì c'è il Petter Necchino lui gira cavoli veramente si fa i giri con questa qui in mano e non si fa problemi ed è contento della scelta ha provato anche lui l'action cam e non si trova ecco sono scelte però deve una persona deve cercare gli errori che ho fatto io sono quelli cioè di guardare gli altri cercare di emularli qualcuno guarda questo video e dice ah che bello il microfono adesso lo prendo anch'io ah adesso utilizza l'action cam poi lo prende e si trova malissimo magari perché hanno una qualità scadente rispetto alla loro mirrorless figa di cui dispongono senti Alessio ultimo capitolo di questo format la tua lista dei desideri che cosa manca ancora nel tuo studio outdoor se vuoi anche in quell'outdoor che cosa vorresti ancora avere allora in quello indoor interno vorrei avere un studio più adatto a star tranquillo nel senso qui sono a casa sono su una cameretta o la cucina a fianco perché per necessità ho dovuto mettermi qui perché lo studio mio è inagibile e quindi vorrei avere al più presto uno studio mio dove poter un po' come te avere un tuo spazio dove poter stare tranquillo e gestirti le cose in tranquillità per le esterne io quello che amerei tanto è avere una GoPro col sensore quello grande perché da una parte la 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 facilità d'uso la la praticità di questa con la qualità di questa ok quindi vorresti una cosa che ancora non esiste io secondo me prossimo anno loro ok loro ce la cacciano giù da capire se poi saranno indietro con i tempi o saranno giusti eccetera magari qualcun altro si inventa un qualcosa innovativo vediamo che Sony Canon Olympus stanno molto puntando per creare dei prodotti per i vlogger stanno veramente stanno investendo una e Sony ha mandato appena fuori una settimana fa un nuovo prodotto che è fatto per i vlogger quindi una fotocamerina ipercompatta col sensore della full frame quindi qualità la paura è una fotocamera ipercompatta stanno uscendo delle cose interessanti e mi piacerebbe sempre avere in esterna un operatore che mi fa le riprese ok quello sì penso che cambi molto quando giri anche la volta scorsa l'ultima escursione che ha fatto deve ancora uscire il video siamo andati sulle dromiti abbiamo fatto credo siamo arrivati sui mille metri di dislivello positivo quindi veramente ero a metà fine percorso metà fine giornata perché poi era tutto un saliscendi che ho detto al mio amico che era lì con me collaboratore e ho detto ma come fai a fare video come si fa a fare video cioè che sono stremato cioè accendi e non c'è l'entusiasmo c'è soltanto la fatica esatto quindi sei esatto quindi ci vorrebbe uno che non gira con lo zaino che magari gira solo con quella di mano quindi è molto più leggero e riesce a fare meglio le cose e ora ti segue e ti riprende in quello che fai quello sarebbe bello averlo chiaro cavoli allora ti faccio vedere una roba fighissima che mi fa venire in mente che però non troverò mai sono dei ragazzi credo tedeschi che fanno parkour sì ah cosa posso scrivere beh forse parkour già li troviamo vediamo perché sono famosissimi famosissimi si chiamano tipo S qualcosa cosa fanno? Storror eccoli qua Storror e la roba incredibile che loro fanno è che loro praticamente girano ognuno di loro saranno una decina di ragazzi con la loro webcam e si riprendono scusa con la loro telecamera si riprendono uno con l'altro e poi alla fine montano tutto insieme vedi? adesso si vedono delle cose vedi che tutti riprendono guarda e loro praticamente hai visto cosa utilizzano no non ho visto sono tutte action eh sì beh certo ovvio poi nel loro caso figurati a volte anche il telefono e vedi tu praticamente hai lo stesso video preso da 3, 4, 5 angolazioni perché guardali li vedi sempre lì tutti che riprendono e alla fine l'effetto è incredibile cioè è veramente figo si chiamano storror hanno anche tanti tantissimi iscritti ah non si vedono eccoli qua ed è molto interessante come metodo io non lo conoscevo però se sei un gruppo di persone ognuno può riprendere la sua parte poi io mi immagino il bagno di sangue a sincronizzare tutte ste riprese totalmente a caso ma è una figata guarda cioè cambiano in continuazione è meno complesso di quello che pensi perché ste action cam ti sparano già i file pronti quindi tu devi solo fare i tagli ecco ah sì forse il segreto sarà magari sincronizzare gli orologi sì ah beh se sincronizzi te le trovi tutte una sopra l'altra tutte ovviamente già allineate quindi sì sì comunque ve lo butto lì anche come come spunto per voi che state guardando secondo me loro io non li conoscevo non mi sono mai appassionato al parkour ma hanno un modo di realizzare i video che è veramente molto creativo molto dinamico ogni tanto si vede quello che parla che fa il commento visto e allora si inquadra e dice delle robe intanto quello dietro sta registrando e poi si inquadra quell'altro sono veramente molto creativi davvero bravi e poi oltretutto fanno delle robe veramente simpatiche sono molto bravi mi sto quasi appassionando al parkour è difficile farlo io non sì sì prima o poi mi romperò le ossa perché io non ne conosco di ragazzi che fanno parkour però è una roba difficile da quel che sembra è veramente fisico fare delle robe di sì senti altre cose nella tua lista dei desideri no onestamente io credo di aver di essere arrivato alla paccia dei sensi come attrezzatura perché il computer è il computer che chiunque vorrebbe avere è un'attrezzatura qua che computer è? è un iMac Pro quindi tanta roba cioè chi utilizza Mac non potrebbe voler di meglio e mi semplifica tanto il lavoro io da quando l'ho preso specie quando faccio i montaggi video ti semplifica tantissimo il lavoro quindi chiaro sono soddisfatto dell'acquisto grande Alessio dai allora siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata veramente veramente bella sono abbastanza contento di tutto guarda io sono molto contento invece della chiacchierata che abbiamo fatto me la sono proprio super goduta e allora fammi ricordare fammi ricordare eccoti qua dove ti troviamo ti troviamo su youtube come Alessio Furlan e qui c'è il tuo canale youtube dove possiamo vedere all'opera tutte le cose che ci hai raccontato ti troviamo anche su unsplash io questo ci tengo a sottolinearlo è secondario però mi piace perché mi piace questa cosa che tu metti a disposizione le tue foto che sono bellissime quindi unsplash come Alessio Furlan poi abbiamo già aperto tecnica fotografica punto com dalla quale tra l'altro comunque si arriva comunque qua prima o dopo perfetto e da qualche parte vediamo se ce l'ho già a portata di mano ah c'è anche il punto net eccolo qua volevo vedere il podcast ma me lo potete anche dare sulla fiducia Alessio Furlan punto com e da lì via il podcast fotografica podcast ah si arriva di nuovo qui vediamo un pochino qua forse giusto per far vedere la copertina eccolo qua lo trovate comunque apple spotify e tutto quanto ho dimenticato qualcosa beh forse instagram vogliamo citare giusto perché sei un fotografo diciamolo guarda andrea scrivi alessiofurlan.com e da lì trovi praticamente tutto ecco alessiofurlan.com eccolo lì se eccoli qua perfetto youtube podcast foto eccetera c'è anche il link vedi a patreon e anchor che è dove ho stato il e sotto ci sono i link di instagram facebook eccetera perfetto quindi dai riuscite a trovare tutto anche qui vedete le foto sto cercando di spostare tutto su alessiofurlan.com in modo che venga concentrato sulla mia persona e basta non tramite oggetti a destra manca è corretto mi sento in sintonia con questa cosa è più semplice anche da ricordare perfetto caro Alessio allora linkiamo poi nella descrizione i tuoi link un paio di cose di quelle che abbiamo parlato trovate tutto se siete qui non vi servono più i marcatori di capitolo magari vi serve il form se volete partecipare allo studio tour quindi compilatelo non è detto che tutti partecipino dipende anche se c'è qualcosa magari di originale nel vostro studio di cui valga la pena discutere e che dirvi grazie venite a trovarmi su telegram se volete approfondire chiocciolina Ciraulo anche Alessio il suo canale telegram non me lo ricordo mai Alessio qualcosa telegram allora canale telegram o quello nuovo che è Alessio on the line ecco perfetto oppure tecnica fotografica vabbè dai ormai basta andare su un riferimento e li trovate tutti quando qualcuno comincia a seguirmi dopo vedere sui video ho trovato tutti i link infatti infatti e basta caro Alessio ti ringrazio molto Andrea se qualcuno ha delle domande su questa roba che magari non abbiamo trattato o l'abbiamo passata va qui sotto nei commenti per la domanda io le leggo e rispondo grandissimo super grazie a te Alessio e super grazie a voi che avete guardato fino qua a presto a presto a presto Grazie a tutti